Era partito per le vacanze sabato scorso con la moglie e la figlia di 4 anni per trascorrere un periodo all'isola d'Elba dove ieri ha trovato la morte. Enrico Lambri, 49 anni di Fiorenzuola, in mattinata era uscito presto per un tuffo alla spiaggia di Calone. Il lembo di sabbia si raggiunge percorrendo un sentiero impervio tra gli scogli. È lì, a 10 minuti da casa, che per cause da chiarire, forse un malore o forse una disattenzione, è precipitato tra i massi procurandosi ferite mortali. A lanciare l'allarme è stato la moglie, non vedendolo rientrare, all'ora di pranzo. Subito la macchina dei soccorsi si è messa in moto, ma una volta individuato il corpo non si è potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata dalla capitaneria di Porto e trasportata alla sala mortuaria dell'ospedale di Porto Ferraio. La notizia si è sparsa in Baldarda, suscitando vasto cordoglio. A Fiorenzuola risiedono gli anziani genitori di Enrico Lambri, che era figlio unico, e lavorava in una società di elaborazione dati di Fidenza. Lascia la moglie Angelita e la figlia Valentina.